Ragazzi, oggi insieme a tutti gli owner di CorelMC, in realtà ne manca uno, ma ok, vi ho riportato anche un owner speciale dopo tanto tempo e andremo a reattare a tutte le vostre migliori giocate su Minecraft. Se volete inviarmi le vostre clip, queste le mail, inviatele qui. Come di lasciarvi al video vi dico che ci vediamo questo sabato e domenica al Romics. Per il momento il padiglione è 6. Seguitemi su Instagram perché lì vi lascerò tutti gli aggiornamenti. E salve a tutti ragazzi! Dai, vai Vinci! Ciao ragazzi, sono Aaron Blades! No, fallo fare, fallo fare a patto, scusami. Vai Fifty, oh bro, Fifty non ti porto da un anno sul canale, quindi ti congetto l'onore di fare la intro. Ciao raga, io sono Fifty, bentornati in questo nuovo video. E oggi bagniamo gente. Allora, in poche parole ragazzi, oggi siamo insieme a Fifty, Feriz e Vinci per actare le vostre clip. Di owner di Coral. E oggi, Fifty, tu non sai quante volte mi hanno chiesto di portarti in video, però io ho sempre detto che è impossibile trovarti. Quindi stavolta diciamo che è un po' un video speciale, no? Speciale 60.000 iscritti. Esatto. Iniziamo prima clip di un fan. Voi dovete solo dire... Ma un fan di chi? Tu o mio? Eh, tutti i miei perché... Chi ti si in cula? Ah, ok, scusa. Ah, perfetto. Io sono l'ispettore Feriz. Sì, ogni video ha rotto le palle. Tanto, nei suoi video, cioè, ogni volta che porto Feriz dice che guadagna 70.000 euro al mese, che c'è la server più grande in Italia... E che c'è il... E che c'è... Quelli sono i video con Feriz. Comunque, in poche parole, devo vedere, reactare a queste clip, ovvero dire se secondo voi il player è forte e scarso, in poche parole è un vostro giudizio, vai. Già che sta sui Pixel... È scarso. Esatto. No, 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 dai, dai, vediamolo. Oh, ma chi cazzo gioca sui Pixel nel 2023? Ai Pixel c'ha le Bedos migliori di Coral. Continua a pingare 800. Dai, vediamolo, ha fatto 7 final kill, guarda che carino. Ok, prima kill. Wow. Secondo kill. Mamma mia. Quell'altro è... Mamma mia. Beh, questo è spawn kill. È spawn kill. Spawn kill ha killato due persone. Dove non vedi... 7 final. 7 final. Vabbè, ma se non vince, però... Non 5, non 6. Senti il butterfly flick. 7 final. Ha fatto 7 final, per caso? Non ci posso credere. Ora fa 8 final. 7 final e 4 letti. Eh no. Penso che è la prima volta gioca a Minecraft. Infatti sì, c'è... Ok, sì. Vabbè, però non puoi blastare sto player, perché magari gioca su Coral e pure VIP. Va bene, guardiamo, se non è VIP... Se non è VIP gli metti il champion perché l'ha insultato. No, non ci gioca questo maledetto. Eh, bro, vuol dire che è un italiano che gioca sui pixel. Oh, ci starà. No, no, ci ha un registrato, Nicolás. Vai, questo sta su Coral. Almeno sei contento. E' un'altra cosa. Mi porterò delle clip. Un insieme di clip tra... Tra clutch e anche dei bridging. Cioè, però vedi che sono carini, ti fanno proprio la spiegazione. Tipo Masterchef che portano i piatti e dicono, eh, io ho cucinato qua tipo un wuster. Esatto. E l'ho condito con la senape. Il tape, però quello per drag il cane. Cioè, guarda che... Contengono handcam e soundclick come mi piace a te. Quindi spero che apprezzarei queste clip. Che carino però. E mi piace ma sono erosione 20 quello che ti viene a sniper in line. E questo è il ban. Ma è il ban. Vedi? Già su un'altra serve. Però ho fatto l'intro su Coral. Cioè, guarda che malati. Guarda, come traiardano. Eh, ma lo devi finire però, eh. Ma è con la rotellina o...? No, no, no. Con il drag click sul tasso destro. Grande erosione 20. Eh. Eh, però è forte. Cioè, capisci che queste robe non so... Spero che le mie clip ti siano piaciute. Per tutti i ragazzi. Mi ti lasciano un like. Iscrivetevi a casa così facciamo raggiungere i 60k mark e altri obiettivi. Che già ne abbiamo raggiunti. Alla prossima, Marco. Ciao. Dai, però... È carino. È carinissimo. Carinissimo. Però devono mandarti clip che fanno pvp, eccetera. Che sono wow. Esatto. Nelle modalità. Anche perché fatto per quello, prima o poi te ne esce uno buono, capisci? Altra clip, ragazzi. Sì, tastiera inclinata e mouse. Questo è il coraco. Pure io gioco così. Tastiera inclinata alla CSGO. Sì, anche... Ma è gioco così, infatti. Scrivete nei commenti se giocate con la tastiera storta o dritta. Io non ci riesco. A Minecraft no. A CS sì. Guardalo, che malato. Bravo, bravo. Tutto su Coral, bro. Eh, eh, eh. Eh, questo... Questo è un bel... Infatti è una buona... Si vede che è più professionale rispetto agli altri. E vedi, infatti, sì, ha fatto una bella clip, cioè... Sì, 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 infatti ha killato una persona, però gioca su Coral, quindi sicuramente... Sì, sì. È più professionale. Sì, sì, sì. A parte quello, ma è davvero più professionale. C'è anche una musichetta sotto, senti? È vero, è vero, è vero, è vero. La sua Handicam si vede tutto buio, sta proprio full tryhard. Proprio lì Minecraft è la mia vita. Beh, vabbè, comunque è bravino. Però devo dirti che non sono stato colpito. Perché? Più tipo due sì e un no, capito? Lo voglio vedere al pressure test, poi. Bellissimo meme. Eh, vabbè, lascialo lì, che te lo si... Ah. È morto pure! Dai, questo, bravino. E poi c'è il tryharder qui, con il bloody, l'handcam, Coral, tutti su Coral, ovviamente. Vai, vediamo cosa fa. Oh, oh! Wanda Coral! Ah, il Bad Lion. Sarebbe il fonte del Bad Lion, mi sa. Ah, però non c'è il sound click, ok, vabbè. Sta autoclickando. Sì, sta autoclickando, sì. Vabbè, vabbè. Ma Ferriz, un anno fa ne abbiamo fatto sto video, solo io e te. Non ci siamo accorti che avevamo uno che aveva l'autoclicker sotto, aperto. Noi non l'abbiamo visto. Te lo giuro, nei commenti me l'hanno detto in un milione. Ogni clip che mi fai vedere sto guardando se è stato bannato. Questo va a 60 click al secondo. No, bro, ma è Champions su Coral, ti pare che che citta? È Champions, grazie mille. Prima ho bannato un divinity. Forge 1.8. Forge uguale cheat, vero, 50? Esatto, Forge uguale cheat. Perfetto. Comunque draglicka, vedi? No, no, ma ne sa, cioè si vede. Ma in quale gioco si draglicka oltre a Minecraft? Nessuno. Nessuno? Credo. Te l'ho detto, l'hanno pensato per Minecraft. Guarda quanto è pazzo. Comunque ci sono dei player su Coral che veramente sono un po' brave a giocare. Eh, ti fanno alcune. Sì, 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 ma è vero. Fa 17 GPS, tipo. Vedi, ne fa un botto. Vabbè, fa il butterfly click lì, sta tutto lì applicato. Questa è una clip presa dal TikTok, parese. Sì, certo. Questa è presa dal TikTok. Cioè, non è sua mai nella vita. Poi è nella practice. Ma chi è questo? Ma chi va per R&PQ, vai? E infatti sì, non sta nemmeno nell'U, sta nell'NA. È su TikTok. È su TikTok. Vabbè, ci sta, dai. Ma non è manco italiano! Complimenti al player, ma non al ragazzo che me l'ha inviata e che si era scaricato da TikTok. Però dai, complimenti al player. No, vabbè, edit è bellino, però. Sì, edit è bellino, però il problema è che se io vedo un video del genere mi devo spegnere il PC. No, non lo vedo, non lo vedo, non lo vedo un video del genere. Come fai a vedere un video del genere, il blog che ti gira la testa? No, ma sento voi storti. Bisogna fare complimenti a questo ragazzo. No, sicuramente è bello l'edit. Nel senso, vedermi... Sì, ok, dura 15 secondi questo video, ma vedermi 3 minuti così mi viene un infarto. Eh sì, ma perché è troppo soggiuveno. Vabbè, ragazzi... Vabbè, però in effetti è vero, solo per i Minecraft PvP player questo, edit. Eh, non potete capire. Questo qui dura poco, quindi ha fatto una giocata assurda. Anche perché 20 secondi di clip devi per forza aver fatto una giocata figa. Come fa a pingare 80 su Coral? Da tipo mobili, probabilmente. Eh, clutch? Claccino? Madonna, che combo! Elvo, non so neanche tu come l'hai fatta, però, cioè... Eh, ha fatto un claccettino e poi ci ha fatto una gomma assurda. Oggi scopriremo cosa prova Marques per Asettola. No, non ce la faccio più, ragazzi. Se l'ha mandata! Cos'è, cos'è? Spesso, spesso, spesso. Io siamo un masettola! Mi ha fatto papà rapare. Mi ha assurdo la voglia di fare altro. Cioè, questo ha messo le mie clip, messi insieme... No, vabbè. Ok, mine man, vai. Boom. Bel clutch. Opla. Finito? Ah! Abbiamo un digitale. Vai, per fare un bon jump. Se l'hai fatta apposta per farci ridere, hai vinto. Se l'hai fatta apposta per farci ridere, hai vinto. Se l'hai fatta apposta per farci ridere. Ha vinto l'episodio. Cioè, bro... Che poi ci arrivava, l'ha fatta apposta. Ma secondo me l'ha fatta apposta. No, 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 l'ha fatta all'ultimo, si vede, perché è suicidato all'ultimo. Eh, ma sì, perché vedi... Questo è verità tanta roba. Stava per cadere. Ragazzi, per me ha vinto questo. Per me ha vinto questo. Magari qualche domande che dall'ultimo video che ti ho mandato avrai. Come per esempio... Citto. Il Marcus Clicker. A cosa serve? Qual è il senso della... Ok, no, forse quello no. Però comunque avrai qualche domanda. Di tutto voglio specificare che... Io non citto. Non sono un cheater. Sì, ho delle hack. Ma... Non ho mai citato su... Questo lo puoi anche andare a confermare. Metti in pausa il video. Vai a fare check ban su Corel. Vai, vai, 50. Check ban. Come si chiama il gioco? Se citta su Corel Games a me va bene. Sì, ma... Feriz. Non la taglio. Non la taglio. Come non tagli? Allora, questo non lo metti affatto. Non andate a cittare su Corel Games, ragazzi. Era ironia. Bro, va bene tutto, ma se non mi metti il nick con check ban ti faccio. Il motivo per cui non lo posso fare che bypassa, o almeno preferisco non farlo, è più per una questione di rispetto. Hai detto pure te, non si citta. Se io ho delle hack, però non le posso usare perché sui server non mi bannano. Sì, ma... Ma questo è un server fatti apposta per cittare. Sì. Anticheattest.com, sì. Certo, server è per testare i cheat? Sì. Io però un po' per dirti, lavoravo con i client, c'erano dei server in cui potevi switchare l'anticit che ti interessava e provare un po' tutte le hack. Tipo c'erano i war per provare la scaffold, quelli per provare il Jesus. Sì, ma ci sta. Spero che questo video ti sia piaciuto. Mi raccomando, non si citta sui server, a meno che non vuoi fare 1v1. HVH? Hacker contro hacker? HVH. HVH. Ah, hacker contro hacker. Ok. Best player sumo. Vabbè, lui... Best player sumo? È morto. Ah. Ah, ma... Ah, vabbè. Ah, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. È tipo... È tipo... Le hai persi tutte, però... Esatto. Leggete questo. Quando mi dicono di togliere l'anti-knockback. Cioè, questo qua per il drag click che fa, che fa 40 cps, si può vedere. Ma no, ma sarà questo Bridgerland che da il knockback troppo. No, 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 se fai drag click diminuisci il... Sì, ma non è che lo diminuisci del 99%, eh. Eh no, eh no. Questo è fatto apposta, che dopo tu non drag clicki più. Ma lo vedi, fa 3 cps, questo è così. Ma bro, fa 40 cps. Guarda al centro. Cioè, sta modalità è fatta apposta, che tu drag clicki, ovvero... Ma non è fatto per non prendere il kb, è fatto per cacciarti. Esatto, però tu lo scopi è non prendere il kb, poi buttarti. Ma vedi se si chiama reducer bot. Poi devi aspettare, una volta che tu ti sei bello che è impostato, lasci, non clicchi più, lui ti spinge e tu clacci. Quindi è fatto apposta. No, no, ha ragione, ha ragione, ha ragione. Ma non ci sta che non prenda così il kb, cioè... Ma è fatto proprio apposta. Eh sì. Ok, allora sì. Ma guarda che anche su Coral, se fai drag click, prendi meno il kb, eh. Sì, ma non è che non prendi... Ovvio che non lo prendi. Lo prendi, ma è di meno. Vabbè, allora ragazzi, la clip migliore tra tutte queste che avete visto. Quella l'olica clacciato. Questa? Questa, questa, per me la migliore. Ho capito, non possiamo dare la win a uno che fa far bargiare. Siamo noi l'ospite, noi decidiamo lui. Esatto. Ok, va bene. Se aspettavi che facesse qualcos'altro, non l'ha fatto, ti ha fatto ridere. No, infatti sì. Era il clip che mi ha fatto più ridere, basta. Sì, anche a me, anche a me personalmente sì, ovvio. Vabbè, grandissimo, hai vinto. Bravo. Ma è a posto comunque, ragazzi, video con gli owner, che qui devo ringraziare in realtà Fifty. I got. Esatto. Io, ultimamente, ci sono ogni tre video di Marques, c'è un video in cui ci sono anch'io. Beh, oh, allora, non è vero niente. Abbiamo trovato il lavoro per Vincenzo Pio. Esatto. Conto in creator. Esatto. Vinci, questo mese ti meriti 5 ore in più. Ci vediamo a Romics, weekend, ci sarà anche Feriz, venite tutti quanti, padione 6 e niente. Bella. Grazie per il saluto, ragazzi, molto... Bella, ciao, ciao, ciao.